Nel Centro Studi e Tecnologie Avanzate CAST dell'Università d'Annunzio Chieti Pescara si è tenuto il congresso regionale Abruzzo-Molise della Società Italiana di Diabetologia SID e dell'Associazione Medici Diabetologi. Responsabili scientifici del congresso sono stati il professor Agostino Consoli, ordinario di endocrinologia all'Università d'Annunzio, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche ASL di Pescara, nonché presidente nazionale SID, e la dottoressa Gloria Formoso, professore associato di endocrinologia all'Annunzio, dirigente medico universitario Unità Operativa Complessa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche ASL Pescara e presidente SID Abruzzo-Molise. Il diabete è una malattia complessa e necessita di un approccio multidisciplinare che vede la necessità di interazione tra lo specialista diabetologo, il medico di medicina generale, infermieri, dietisti e eventualmente podologi e psicologi. Non posso non farle questa domanda. In tempo di Covid, chi è malato di diabete ha sofferto di più, corre maggiori rischi? Ovviamente il paziente diabetico può essere considerato un paziente fragile, quindi inevitabilmente ha una predisposizione allo sviluppo di complicanze più frequenti rispetto a un soggetto non diabetico. Quindi quello che è fondamentale è stato ed è tuttora prestare ancora di più attenzione, se possibile, alle persone con diabete per tutelarle, per prevenire possibili complicanze legate all'infezione da SARS-CoV-2. Questo vuol dire anche vaccini? Assolutamente. SID e MD sono impegnate in una campagna che è attenta non solo alla vaccinazione per SARS-CoV-2, ma soprattutto questo periodo ci ha dato modo di approfondire la necessità di proteggere i pazienti con diabete e quindi la necessità di vaccinazione a 360 gradi. Il diabete purtroppo è una malattia subdola e a che punto siamo? C'è stato un aumento dei casi? Il diabete è una malattia in costante crescita, anche a causa del fatto che la vita media si sta allungando e quindi l'età è un fattore legato allo sviluppo di diabete, così come c'è un aumento dell'incidenza anche nella popolazione pediatrica. Negli ultimi anni c'è stata una rivoluzione nella gestione delle persone con diabete, sia dal punto di vista tecnologico, quindi parliamo di strumenti per la gestione dei pazienti che necessitano di terapia insulinica, quindi pazienti con diabete di tipo 1, ma anche di nuovi farmaci che ci permettono di curare il diabete non solo in termini di riduzione della glicemia, ma in termini di riduzione delle complicanze che poi è l'obiettivo principale nella cura del paziente con diabete. L'invalidità e poi la morte viene per le complicanze legate al diabete.